Si è insediata la Commissione Comune Unico Media Valle Seriana, il nome dice l'obiettivo di questo nuovo organismo. Mancavano però i rappresentanti di maggioranza di quattro dei comuni coinvolti. La Commissione a questo punto può funzionare lo stesso? Va comunque avanti? Sicuramente una premessa, io credo ci sono stati dei malintesi. Io credo, e anche delle incomprensioni, magari con altri sindaci. Io mi auro e credo e spero che questi siano superati a seguito di una mia lettera e di una loro risposta congiunta. Poi mi sono incontrato personalmente con tutti i cinque sindaci. Avevo poi ricomunicato con una lettera molto pacata e ponderata un invito nuovo ad essere presenti tutti, perché questa Commissione, come ho detto più volte, è una Commissione che vuole raccogliere tutti i rappresentanti dei gruppi consigliari dei cinque comuni. Quindi di ciascun gruppo consigliare, quindi che sia di maggioranza o che sia di minoranza, perché è un progetto che deve riguardare tutti. La valutazione di arrivare, di raccogliere i dati, è questa la finalità, è di elaborare i dati, di compararli poi con quelli di altri comuni e di valutare gli scortamenti. Questo è il fine della Commissione, quindi una Commissione tecnica, non può per sua natura escludere qualcuno, maggioranza o minoranza, perché deve riguardare tutti i comuni, tutti i rappresentanti della popolazione, quindi di maggioranza e di minoranza. Diversamente rischerebbe di partire zoppa, perché è giusto che, visto che si tratta di raccogliere dati puri, che non ci sia il sospetto che questi dati siano stati manovrati, adulterati, ma siano dati effettivi. Ecco, questo sarà quello che fa la Commissione, l'ho precisato nella mia lettera, è ben precisato anche nel regolamento che in quella sede, nella prima sede, è stato adottato soltanto in bozza da parte dei presenti, erano presenti i rappresentanti di ciascun comune, come detto lei giustamente, e io credo anche per ragioni logistiche, perché devo dire effettivamente che la seconda comunicazione è stata mandata al lunedì mattina alla segreteria per la sera, quindi certamente anche i tempi non hanno certo giovato, e questo mi dispiace e mi scuso, ma effettivamente può essere che questo abbia rallentato certamente o non abbia consentito a qualcuno di essere presente. L'abbiamo però questo regolamento solo adottato, ripeto che non approvato, è ben precisato la finalità, ma lascia poi aperto, e in una mia lettera di trasmissione degli altri comuni, si dice sono ben accetti dei suggerimenti, da qui in avanti, e verrà approvato solo successivamente, prendendo poi atto eventualmente dei suggerimenti di chi in quella serata non ha potuto essere presente. Ecco, ci tengo a sottolineare questo aspetto, nessuna, l'ho detto più volte, nessuna volontà di prevaricazione, nessuna volontà da parte né mia né delle minoranze, né di altri, di voler imporre delle scelte, nessuna volontà di esposizione mediatica, ma soltanto la volontà veramente di passare, come si suol dire, dalle parole ai farti. Ho sentito più volte, anche da parte degli altri amministratori, dire che vogliamo capire quali siano i reali benefici di un'eventuale fusione, vogliamo capire costi, eventuali costi di prima e di dopo, credo che questo sia venuto il momento di dire non lasciamo sempre che siano altri a venire e parlare in astratto di fusione, ma mettiamo nel concreto, quindi parlare di costi e di benefici, di servizi, maggiori servizi o minori servizi, all'interno dei nostri cinque comuni. Quindi rendere concreto questa posizione e rendo concreto attraverso questa scelta che è quella della Commissione. Vi state muovendo anche per anticipare scelte che potrebbero eventualmente calare dall'alto? Beh, sicuramente sì. Mi sembra che il percorso normativo è chiarissimo a livello nazionale, se ne continuo a parlare, penso che sia un processo irreversibile, irrefrenabile. Non aspettiamo che arrivi dall'alto, perché se arrivi dall'alto sicuramente la scelta che sarà calata sarà una scelta certamente meno vantaggiosa di quella che potremmo noi valutare direttamente e certamente poi neanche agevolata finanziariamente come invece la scelta attuale sarebbe.